Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui in una nuova puntata di un video dove vi mostro come realizzare questa borsa veramente semplicissima, che ci vuole anche pochissimo tempo per realizzarla ed è un punto base, ho lavorato i lati a maglia bassa, una lavorazione a pannello che poi sono andata ad attaccare alla mia borsa e con la catena che viene data in dotazione insieme al set in similpelle borchiato abbiamo fatto i manici ed è stata fissata in questo modo, però è una lavorazione veramente semplicissima, dopodiché io l'ho foderata all'interno e l'ho chiusa qua così con una cerniera, vedete l'ho terminata in questo modo ma potete anche decidere di lasciarla aperta, di foderarla, di chiuderla come più vi piace, ognuno è libero di fare nel modo che ritiene più opportuno appunto, date libero sfogo alla vostra fantasia. Questo è quanto, bando alle chiacchiere, vi lascio il video tutorial, fatemi sapere i vostri commenti, se provate a realizzarla, vi ricordo che c'è il link della pagina facebook dove potete mandarmi le foto. Un bacione enorme, buon lavoro uncinettoso! Allora questa è la lista del materiale che ci serve, ovvero un inserto in similpelle nera borchiato, che è veramente bellissimo e molto particolare, insieme al quale viene fornita una catena, che è molto lunga, in quanto verrà fissata tutto attorno alla borsa e in più farà anche da manico della nostra borsa. Poi ci serve, dal cordoncino con cui lavorare i laterali della nostra borsa, io ho scelto lo Swan Magnum, in questo colore grigio perla, perché è la stessa identica tonalità delle borchie, quindi mi piaceva che venissero abbinati e ripresi questi colori. Un uncinetto numero 4,5 con cui andrò a lavorare il mio cordino, però utilizzo lo Swan Magnum, quindi è molto grosso, in base a voi e al cordino che utilizzate, regolatevi sul calibro dell'uncinetto. Questo è quanto, vi ricordo che tutto il materiale lo trovate sul sito www.merceriamari.it e in descrizione trovate il link di tutti i materiali che vi occorrono. Ora vi lascio il tutorial. Per prima cosa, quindi prendiamo il nostro cordoncino sull'uncinetto e iniziamo avviando le catenelle che ci permetteranno di realizzare il laterale della nostra borsa. Io avvierò 10 catenelle, ma come vi ripeto, sto usando un cordoncino abbastanza grande e quindi me ne sarò uno poche. Regolatevi anche voi, se con 10 vi viene troppo stretto, fatene 15 oppure 20 in base appunto alla dimensione del cordoncino che decidete di utilizzare. Una volta realizzate tutte e 10 le nostre catenelle, ne faccio ancora una e inizio a lavorare le maglie basse sopra le catenelle che sono appena andate a realizzare. Terminato in giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e proseguiamo a realizzare le nostre catenelle fino ad ottenere un pannello alto tanto quanto vogliamo che sia il laterale della nostra borsa. Quindi io adesso continuerò a lavorare e dopo vi scriverò quanti giri ho realizzato. Io come vedete sto lavorando a maglia bassa, però anche qui il punto può essere quello che vi piace di più. Se non volete fare maglia bassa e volete fare un punto più lavorato, liberissimi di farlo, tenete conto che deve venire una striscia stretta e alta. Quindi una lavorazione a pannello. Ho terminato di realizzare il mio laterale. In totale ho contato 33 giri di maglia bassa e 26 cm in altezza. Adesso vediamo come bordare la borsa e poi come andare ad attaccare i nostri laterali. Quindi dopo aver realizzato i due pannelli laterali, adesso vi faccio vedere come andare a passare attraverso tutti questi fori che tra l'altro ho notato che sono molto piccolini quindi vado a cambiare l'uncinetto. Io prendo un numero 3, ma se voi ce l'avete più piccolo vedete un po' voi, al fine di riuscire a passare dentro i fori che sono un pochino piccolini. Però adesso con questo uncinetto riesco a passare. Allora, per prima cosa bisogna fare il capietto sull'uncinetto, inserirci qui in un foro in questo modo. Prendo il filo da sotto, vedete che ho inserito l'uncinetto nel foro, sono uscita da dietro prendo il filo, lo tiro attraverso il foro, in questo modo, passa veramente un po' fatica prendo di nuovo il filo e vado a realizzare una maglia bassa. E mi sono così inserita dentro il primo buchino. Adesso so che è difficile, però io vorrei andare a realizzare due punti bassi per ogni foro, perché sono abbastanza distanti l'uno dall'altro, quindi se ne facessimo uno resta anche brutto solo esteticamente perché sarebbe troppo tirato distante. Quindi con l'uncinetto vado a rinfilarmi nello stesso foro e rifaccio un'altra maglia bassa. In questo modo qua. Dopodiché prendo di nuovo l'uncinetto, passo nel foro successivo, esco da dietro, prendo il filo, torno sul davanti e vado a chiudere facendo una maglia bassa. E ripeto lo stesso procedimento ancora una volta all'interno dello stesso foro. così. Ok. E vedete che qua resta vicino e anche un pochino più bello. Di nuovo con l'uncinetto passo nel terzo foro, prendo il filo, esco dal davanti e chiudo facendo una maglia bassa, molto semplicemente. E ripeto questa operazione due volte, quindi all'interno dello stesso foro vado a fare due maglie basse. E ripeto questa operazione per tutti i fori della mia borsa. così. Quindi dovrò andare a rivestire tutto l'inserto anche qui, anche qui in cima e anche nella parte dietro che è sempre forata. Quindi dobbiamo girare attorno alla nostra borsa in questo modo per tutta la sua grandezza. Quindi sempre, lo faccio vedere una volta, con l'uncinetto passo attraverso il foro, da dietro prendo il filo e esco di nuovo sul davanti e faccio una maglia bassa normale. Quindi in questo modo prendo il filo, esco e vado a fare una maglia bassa. Voilà! Così per tutta appunto la grandezza del nostro inserto. Quindi terminata di bordare la nostra borsa in questo modo, girandoci tutto attorno, ho già attaccato un laterale e adesso vi faccio vedere come andare ad attaccare anche l'altro. Quindi io sono qua, ho terminato il mio laterale e ho ancora il filo attaccato. Ho cambiato l'uncinetto, ho preso quello più piccolo perché adesso dobbiamo passare appunto nei fori. Posiziono il mio laterale così, qui vedete, nell'angolo esatto dove voglio, poi sono dal fondo, quindi parto da qui in modo che in cima sia là e al fondo dove va va. In questo modo tenendo conto che poi questo pezzettino qua che vedete in più in realtà non è in più perché sarà quello dove andremo ad attaccare la nostra base. Quindi in questo modo partiamo e ci inseriamo prima nella maglia bassa, nella prima maglia qua del nostro fondo lavorato e in corrispondenza andiamo nella solina, in una solina del nostro bordo della borsa. Dopodiché prendiamo il filo e andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima. Voilà. Adesso andiamo di nuovo nella solina successiva, ne prendiamo una sola solina del nostro fondo e in corrispondenza andiamo nella solina del bordo della nostra borsa. Di nuovo carichiamo il filo e andiamo a fare una maglia bassissima. In questo modo. Tiriamo sempre un po' e così via. Adesso di nuovo andiamo nella solina di dietro del nostro fondo e nella solina di nuovo di dietro in corrispondenza all'inserto e chiudiamo con una maglia bassissima. E dobbiamo proseguire in questo modo per attaccare tutto questo lato, tutto l'altro, quindi questo qui all'altro lato della borsa e poi il fondo. Quindi prendo sempre una solina qui, una solina in corrispondenza al bordo che ho fatto, prendo il filo e chiudo facendo una maglia bassissima. vedete? In questo modo facendo attenzione a che l'inserto resti ben il punto sia perfetto, quindi che dove andiamo ad attaccare non ci siano né punti brutti né gobbe né salti, ok? Deve risultare il più lineare e perfetto possibile. Vedete? Adesso ho la mia maglia bassa, poi prendo di nuovo una solina, prendo una solina dell'inserto in questo modo, il filo e vado a chiudere con una maglia bassissima. Proseguiamo così appunto per tutto questo giro. Una volta attaccato all'inserto della nostra borsa anche il laterale, sono qua in cima e vado a fare un giro di maglie bassissime per spostarmi e raggiungere l'altro lato e poi andarlo ad attaccare nello stesso identico modo. Quindi adesso, appunto qui in cima dove sono arrivata, vado a fare un giro di maglie bassissime. Effettivamente voi direte, potevo anche attaccare, partire da in cima, passare qua, il fondo e l'altro lato e finire in questo modo, però mi piaceva che tutto attorno ci fosse un giro di maglia bassissima come qua appunto, che fa questa specie di bordino in orelievo, mi piaceva che ci fosse anche qui in cima, quindi è per questo motivo che vado a farlo in questo modo. Se voi non lo trovate necessario potete anche evitare di farlo e attaccare il fondo partendo in alto da qui, arrivare al fondo, fare la balda e poi risalire. Io invece ho scelto appunto di fare in questo modo. Quindi qui adesso vado a fare le mie maglie bassissime per tutto il giro, fino ad arrivare dall'altra parte e ad attaccare il mio fondo nello stesso, identico modo che abbiamo fatto prima. Guardate, ho attaccato anche questa parte e quello che prima ci avanzava, ecco che invece è proprio quello che ci serve per andare ad attaccare anche la base del nostro fondo, che andiamo sempre a unire con dei punti bassissimi. Una volta attaccati anche tutti e due i laterali della nostra borsa, l'ultima cosa che ci resta da fare è attaccare la catena di cui vi parlavo prima, che poi andrà a formare anche il nostro manico. Allora, come prima cosa, questa catena è veramente molto lunga, guardate qua. Io l'ho divisa esattamente a metà e mi sono legata nell'anellino di metà a un pezzo di filo che poi andrò a togliere. E con la prima metà sono andata a posizionarla con degli spilli lungo tutto il contorno della mia borsa, così come vorrei andarlo a fissare e con la lunghezza del manico che mi rimane. Quindi sono partita dal fondo di là, sono arrivata qua, ho fatto il manico e ho attaccato qui fino appunto alla mia metà. Adesso vi faccio vedere come andare a fissare la catena, poi la stessa cosa dovremo andarla a fare nell'altro lato, con l'altra, esattamente l'altra metà della catena che abbiamo. Quindi metto il filo sull'uncinetto, sempre quello più piccino perché deve passare all'interno del foro della nostra catena. Quindi passiamo dentro il primo anello della nostra catena, dentro una maglia del bordino della nostra borsa appunto, e andiamo a lavorare una maglia bassa. In questo modo. Dopodiché passiamo all'interno dell'anello successivo della catena, prendiamo sempre un punto sottostante del bordino, qua vedete che mi infilo in una maglia, in questo modo, carico il filo e vado a lavorare una maglia bassa. Passo all'interno di un anello della catena, passo di nuovo qua in una solina, e chiudo facendo una maglia bassa. Ok, e ok. E vado in questo modo a fissare la mia catena lungo tutto il contorno della mia borsa, tranne ovviamente dove ci sono i manici, dove non andrò a fare niente, quindi staccherò il filo e poi riparterò dall'altro lato. E l'attacchiamo appunto in questo modo qua. Quindi sempre prima passiamo nell'anellino, prendiamo una maglia della lavorazione del fondo della nostra borsa, chiudiamo e facciamo una maglia bassa. Ecco qua, guardate, ho appena terminato di attaccare tutta la mia catena, qui appunto c'è il mio manico davanti dove non l'ho fissata, e invece tutto qua attorno sono andata appunto con l'uncinetto ad applicarla da entrambi i lati. Questo è il risultato finale. A me piace veramente molto, è una borsa molto semplice, ma allo stesso tempo molto bella, con questo inserto borchiato, è veramente bellissimo. Vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.mercediamari.it Un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!